Musica, cultura e aperitivo. Un trittico atipico ma sul quale crede molto l'ente Olivieri. Da qui nasce Archeo DJ Set, un evento che mescola questi tre ingredienti mirato a coinvolgere un pubblico eterogeneo, portandolo alla scoperta del rinnovato Museo archeologico Oliveriano. Venerdì 16 giugno dalle 19 alle 23, il cortile di Palazzo Almerici accenderà i riflettori sull'ennesima iniziativa che l'ente Olivieri ha programmato in vista di Pesaro 2024. Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa così un po' inusuale per la città di Pesaro. Abbiamo pensato di aprire il Museo archeologico, tra l'altro in occasione delle giornate europee dell'archeologia. Quindi abbiamo accolto anche l'invito dell'Europa a festeggiare l'archeologia, a farla in maniera un po' inusuale, soprattutto così anche rivolgendosi a un pubblico che forse è meno abituato a frequentare sia il museo che la biblioteca. Abbiamo così messo insieme questo archeo DJ set, quindi avremo la possibilità nella serata di venerdì di visitare il museo, anche la biblioteca per chi lo vorrà, e nello stesso tempo di ascoltare della buona musica, musica elettronica soprattutto e anche di fare un paio di brindisi in nostra compagnia. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa e ci aspettiamo anche che soprattutto ecco il pubblico, anche dei più giovani e di quelli che magari ci conoscono un po' meno, vogliano passare con noi questa serata e finalmente conoscerci un po' di più. Un evento interattivo e culturale cullato dall'ente Olivieri assieme alla Fondazione Pescheria e Pesaro Musei, godendo del patrocinio del comune. Per assistervi occorrerà disporre del biglietto dal costo di 12 euro, insieme al quale saranno compresi due calici di vino da accompagnare alla visita guidata. In sottofondo la suggestività della musica elettronica. Per la prima volta avremo un DJ set all'interno di una biblioteca museo, quindi museo e biblioteca aperti, visita guidata, ci sarà anche l'aperitivo, ma soprattutto la parte musicale avremo il DJ, Palle DJ, che è il DJ della VL. E' stato umilissimo nell'ascoltare ciò che volevo, perché tutto sarà incentrato sulla musica elettronica. Non abbiate paura di questo termine, elettronico. Lui ci porterà Palle all'interno di questa musica più easy, più semplice all'ascolto. Dopodiché lascerà al posto a Jacopo Mariotti, con violoncello, che farà entrare all'interno di una scheda musicale, e partirà piano piano il concerto insieme a Paolo Tarsi. Durerà circa un'ora e mezza, poi ripartirà un'altra volta a Palle DJ. Saranno con immagini visual, le abstract imaging, saranno puntate nel muro del museo. Sarà qualcosa di veramente molto molto bello. Sono due elementi, quello della musica e dell'aperitivo, che cercano di coinvolgere ancora di più i ragazzi alla cultura. Qual è la musica che suonerete? Nel senso, c'è una particolarità della vostra musica che di solito producete per questo tipo di evento? La particolarità in realtà è che è una musica che non si fa di solito, quindi abbiamo l'opportunità di venire in un posto particolare e ci associamo a una scelta, a una selezione particolare, che è tutta la musica elettronica dagli anni 80 ad oggi. E io prediligo qualcosa che non sarà ballabile, ma più di intrattenimento, e anche per portare alle orecchie delle cose che sia radiofoniche che purtroppo televisive non vengono più passate e che le nuove generazioni non conoscono. Per quanto mi riguarda mi sento abbastanza a mio agio perché comunque ho suonato molto anche nei musei, quindi ho portato la musica elettronica anche in questi contesti e sicuramente sono convinto che sarà sicuramente molto efficace come connubio. Poi nel mio caso suonerò insieme Jacopo Mariotti, che è un violoncellista, e metteremo insieme i suoni acustici del violoncello con l'elettronica.